Ci troviamo in Piazza Maria Ausiliatrice a Taranto, meglio conosciuta come Piazza Messapia, visto che si affaccia sulla adiacente via Messapia. Mesi fa, forse un 3-4 mesi fa, si sradicò completamente un albero, una situazione gravissima dovuta al fatto che ovviamente l'amministrazione comunale di Taranto non effettua controlli sul verde pubblico e si è sfiorata la tragedia perché immaginate un pino di queste dimensioni che va a cadere se si abbatte su di una persona, l'ammazza. La cosa gravissima qual è? Che a distanza di mesi, circa 4 mesi, guardate, qui non c'è stato nessun intervento perché le radici, il tronco andava completamente sradicato, bisognava scavare e quindi rimuoverlo completamente. Ma la cosa assurda è che queste radici che stanno ancora sotto la superficie hanno sollevato la pavimentazione, hanno sollevato i mattoni ed è pericolosissimo. Vi faccio vedere in presa diretta, una persona sta camminando, non si rende conto e qui ci sono davvero i dossi e le cunette, qui si va a cadere di faccia a terra. Una cosa pericolosissima per tutti, ma soprattutto per gli anziani perché stiamo parlando di un'area, di una piazza che è frequentata soprattutto da anziani e quindi il rischio, l'incidenza, la possibilità di cadute è enorme, tanto più che tanti anziani percorrono questo tratto per andare in farmacia. Si sa che l'anziano purtroppo è più soggetto a patologie e quindi all'uso dei farmaci e quindi va in farmacia ad acquistare i farmaci. Guardate i rischi che si corrono, qui guardate, l'amministrazione ora non si è degnata più neanche di questa zona, doveva essere interdetta. Cioè qui dovevano esserci i famosi, dovevano essere messe le famose transenne della polizia locale per rendere appunto non percorribile l'aria, perché qui si cade. E le montagne russe, qui stiamo parlando di montagne russe, ma in questo tratto la situazione è particolarmente più evidente. Guardate qui, ma anche in altri tratti basterebbe fare qualche altro metro, dico così, per rappresentarvi meglio la situazione. Qui la stessa situazione, in maniera ovviamente meno evidente, meno brutale di questo scempio. Qui l'amministrazione comunale ha delle responsabilità gravissime, enormi. Il cittadino che passa e cade e si rompe una gamba, giustamente chiede i danni all'amministrazione. E lo ripeterò per l'ennesima volta, quando il comune viene condannato al risarcimento dei danni, formalmente paga il comune, ma sostanzialmente paghiamo noi cittadini con le nostre tasse. Perché l'ente comune non è babbo natale. Quando c'è un risarcimento del danno, si attinge dalle casse comunali e le tasse comunali si riempiono con le nostre tasse. Quindi poi queste casse vengono svuotate per risarcire il danno. Uno scempio. Questa è una città del terzo mondo. L'assessore ai lavori pubblici, Bimmo Ciragio, si dovrebbe soltanto vergognare. Il sindaco di tanto si dovrebbe soltanto vergognare. Non è possibile. Gli uffici tecnici si dovrebbero parimenti vergognare. Perché non è possibile una situazione del genere. Sono passati quattro mesi. Non ve ne fotte un cazzo. Non ve ne fotte un cazzo. Questa è la verità. Perché se aveste un minimo di rispetto verso i cittadini, minimo, 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 dovrebbe essere transennata l'aria. Minimo. Minimo. Cosa che non c'è. E aspettiamo. Aspettiamo che cosa? Che qualche vecchietta ci rompa il femore? E in questo modo segni per sempre la propria vita? È mai possibile. Questa è una città del terzo mondo. Tu, Belucci, sei il sindaco di una città del terzo mondo. Tu, assessore Ciragio ai lavori pubblici, sei l'assessore di una città del terzo mondo. La vostra incapacità amministrativa produce questi danni. Siete una sventura politico-amministrativa per Taranto. Io vi farei pagare con le vostre tasche i danni. Non con i soldi del Comune. Con le vostre tasche. Perché le vostre omissioni, le vostre inadempienze producono questi scempi. Quattro mesi. Quattro mesi. Dio Santo. Guardate qui. Le montagne qui proprio si è sollevato. Fra poco andiamo in cielo. E qui poi, anche qui, vergogna. Vergogna. Tutto il mondo lo deve sapere. Siete incapaci. Dovete sparire politicamente da Taranto. Prima ve ne andate e meno danni farete alla città. Questa è la vostra immagine. Tanto valete. Guardate. Tanto valete. Vergognatevi. Ma non bastava il degrado materiale. Questa piazza di notte diventa il luogo ideale, la meta, il ritrovo di depravati di varia natura. Urla, schiamazzi, giri strani, traffici strani. Beh, è il caso che non solo l'amministrazione comunale, ma le forze dell'ordine intervengano e presidino l'aria e vadano a prendere con le mani nella marmellata questi depravati, questi teppisti. Gli abitanti della zona non ne possono più, non possono più dormire la notte. Questa, questa piazza, come d'altronde sta diventando quasi tutta Taranto, è terra di nessuno. Terra di nessuno.